RISING TEAM Nuova Citroën C5X rappresenta l'espressione più evoluta della filosofia della marca. Audacia, innovazione, per un'esperienza di viaggio nella massima serenità. Il suo stile è sicuramente all'avanguardia, una silhouette moderna che esprime potenza dalle linee fluide, aerodinamiche, coniuga eleganza, con funzionalità e con alcuni elementi che provengono dal mondo dei SUV, tra cui la sensazione di robustezza, protezione, data dal suo assetto rialzato, ruote di grande dimensioni con cui si domina la strada. All'anteriore, così come al posteriore, la nuova firma luminosa AV con tecnologia a LED su tutta la gamma. Nuova Citroën C5X rappresenta un vero invito a viaggiare nel massimo del comfort, grazie a un abitacolo in stile lounge, accogliente, con materiali raffinati, eleganti, di altissima qualità, grazie all'eccezionale abitabilità anche per i passeggeri in seconda fila, alla luminosità a bordo, amplificata anche dal tetto in vetro apribile in opzione, ma soprattutto dalle innovazioni Citroën, come i nuovi sedili Advanced Comfort e le sospensioni Citroën Advanced Comfort, che filtrano le asperità del terreno e garantiscono quella sensazione di sorvolare la strada e che addirittura diventano attive, un'anteprima assoluta, sulla versione Plug-in Hybrid. Le tecnologie di ultima generazione di Citroën C5X comprendono l'Extended Head-Up Display, un sistema di visualizzazione a colori in 3D delle principali informazioni di guida direttamente nel campo visivo del conducente e il nuovo sistema di infotainment e connettività che si ispira al mondo dei tablet con Natural Voice Recognition, con touchpad fino a 12 pollici, 4 prese USB e wireless mirror screen. Si aggiungono le funzioni di assistenza alla guida, tra cui l'Highway Driver Assist, un sistema di guida semi-autonoma di livello 2, e poi la telecamera 360 oppure il sistema che rileva gli ostacoli durante le manovre di retromarcia. In Italia la gamma si declina in tre versioni, sei colori della carrozzeria che si possono abbinare al tetto di colore nero a contrasto in opzione, quattro gli ambienti interni e cerchi in lega alla 19 pollici su tutta la gamma. I motori sono i benzina PureTech da 130 e 180 CV, entrambi con cambio automatico a 8 rapporti, e la versione Plug-in Hybrid, che offre una potenza accumulata fino a 225 CV, cambio elettrificato automatico a 8 rapporti, tutta la fluidità e la silenziosità della guida in modalità elettrica, che si aggiunge a tutta la libertà dell'utilizzo del motore termico per le lunghe percorrenze. I prezzi in Italia partono da 33.250 euro per le versioni benzina e da 45.250 euro per la versione Plug-in Hybrid. Sono disponibili diverse soluzioni di acquisto anche con finanziamento e di noleggio a lungo termine per privati e professionisti, e arriverà nelle concessionarie italiane a partire da maggio. Rai Zing Team Rai Zing Team Rai Zing Team Grazie a tutti.